Ehi, questi muoiono per l'attacco. Ah, ho capito, devo proprio far così. Non è effettivamente il floppy. Non è effettivamente il floppy. Non c'è niente. Non c'è niente. Non è lui che voleva mirare quello. Quanto dura ancora questo ponte? E infatti. Ciao. Certo. Porca puttana. Chi se ne frega scappiamo. Chi se ne frega scappiamo. Ah. C'è anche lui qualcosa di merda. Ah, l'ho evitato, effettivamente. Non lo voglio più incontrare, di certo. E probabilmente me la ritroverò di nuovo. Oddio, tu... Elettrificato anche. Sei leggermente diverso, mi so. Sarò scemo. Sarò rotto in culo, eh. Guardi, se sfrutto questa zona lui non può colpirmi. Ma vecchio. Io... Mi ero dimenticato che avevo il boomerang. Scusate. Allora, qui. Porca puttana. Porca puttana. Tiè. Sto boomerang è una roba incredibile. Scusate. Ma vaffanculo. Mi ha fatto anche la... la cambiata di schermo lì. Mi danno pietre solare e poi divento piccolino. indietro. Ah, devo spostarlo qua. Ok. Ah, divento di metallo. Poserei dire anche per l'ennesima volta, in realtà. Ehi. Knack. Non capisco tutta questa esperienza ficcata così a caso. Serve a qualcos'altro? Ah. Vedi che a volte proprio non li vedono. nonostante siano lì. In bella vista. Però è tutta esperienza. Devo salire di livello, per caso? No, ditemelo, eh. Cioè, mi state dando un consiglio che io devo crescere di livello assolutamente. Qua cosa mi danno? Potenza del gancio. Potenza del gancio. Ah. Potenza K. Aggiunta. Non capisco. Dopo aver trascinato, premendo L1. Cioè, con lo scudo potrei... Ah, adesso ho capito. Qui torno dove ero prima, sì. Questa è una bellissima arena. La mamma è tornata! Non è evita così, eh. Noto con piacere che non si è fatto un cazzo. Ma fa un'cù, la fa un'cù! Qu'è fanno, qu'è? Vaffanco! Vaffanco! Non 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 non! Vai giuuuuuuu! E' andato giù! Stavolta ha funzionato! Straordinario! Vediamo un buco strano la sopra ma... Boh... Non mi sembra neanche raggiungibile quindi... Per essere un segreto sarebbe... Mh... Questo cavo sembra tagliato di recente... Scommetto sopprindare! Perchè non ri... Per... permesso! Devo fare questo trucchetto ma ogni volta mi trasformavo! Ufff... Ok... Sto ancora cercando di due tesori eh... Ma... Non ne trovo uno! L'ultima volta che ho fatto questa qua... Ho fatto una brutta fine... E' energia da questi cristalli! E' un sacco di energia! Perchè... Riccita perchè è finì... E' un sacco di badlyそう Di voranze... Cì... giusto per curiosità cosa c'è sopra mazza se sei lenta ah è infatti un segreto e ne mancano tre di acquamarina so come si hanno ritornati i miei pezzi da dove ero molto distante ok sposta perché non lo spostasse ok ma io volevo dire scemo che sono così però da tempo vero no calcio in volo fa troppo danno ma c'è troppo bello tagliate anche questi cavi sai che o quella è la via dopo sai di sì eh allora ho detto tagliate anche questi cavi e dove cazzo vabbè intanto vediamo di bel giochino del cazzo ogni volta premo il triangolo per sbaglio o meglio tengo premuto e mi viene il boomerang no no ok sì non ci passa non ci credo knack knack ok quello si è passato ma ha dato oddio che due coglioni che siete più che due coglioni siete dei rompi maroni perché ho appena visto cosa devo fare dopo adesso è proprio un puzzle rottura dei coglioni massimo cioè questo cosa attiva di preciso non ne ho più palle di vedere so solo che qui ho bisogno di due pedane per poter trasferire l'elettricità e quindi ho bisogno per forza di tutte e due cose non ho visto cosa attiva effettivamente qualcosa scusate tanto l'elettricità adesso ce l'ho quindi tu cosa che attivi un segreto? con la luce azzurra là? io mi sembro rincretinito ma non capisco ma certo era questo vero? sì smette di fare quel boomerang ogni tanto eh infatti dicevo io che andavi a un segreto no? madonna che cazzo è sta roba? scusa no non ci posso credere no 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 madonna ma che è sta roba? ma davvero tutto questo casino per questo segreto? ma cazzo come minimo dovevi darmi molto di più eh un casino da madonna trovare questo ma sono curioso là in fondo che cazzo c'è? quella è una lumaca d'oro ah ora si che ne vale la pena per un segreto va bene ma per questo ancora meglio tempesta no questo non l'ho mai fatto cercherà automaticamente i nemici non ce l'avevo neanche nell'abito sono tornato al punto di partenza direi di sì e ora mi fate provare il bello direi che si è semplificato un po' troppo questo gioco però vabbè nella parte parkour è comunque più difficile ora stavo pensando che alla fine no che cazzo sto facendo a livello difficile con tutti i poteri diventa anche piuttosto facile quindi magari a livello molto difficile da fare appunto quando hai tutto alla fine mi sa di sì eh quando hai tutto devi fare anche i poteri cioè devi fare il livello molto difficile poi tentare boh io direi che ripetiamo il tutto e poi andiamo grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao